Musica Da venerdì scorso una delegazione della città di Memingen è in visita a Teramo per partecipare alle celebrazioni del 25esimo anniversario del gemellaggio tra le due città La delegazione è guidata dal sindaco di Memingen, Ivo Olsinger ed è composta da autorità ed amministratori giunti a Teramo per solennizzare il più antico vincolo di gemellaggio instaurato dalla nostra città E questa mattina si è svolta in comune la cerimonia ufficiale di celebrazione del 25esimo anniversario Sindaco Brucchi, 25 anni di gemellaggio con la città di Memingen, un'unione duratura? Sì, insomma, io devo dire che sono contento che il sindaco Ivo Olsinger è venuto qui a Teramo Mancava a Teramo dal 2007, quindi sono quattro anni di assenza però il sindaco adesso è qui, la delegazione di Memingen è qui Un rapporto davvero intenso, davvero forte, che si è consolidato nel tempo 25 anni sono davvero tanti, ma 25 anni soprattutto di un rapporto continuo Cioè l'amicizia tra i cittadini di Teramo e quelle di Memingen non si è mai interrotta La polizia è gemellata con Memingen, i vigili del fuoco sono gemellati con Memingen C'è il rapporto delle scuole con il liceo scientifico, con l'istituto tecnico Insomma, veramente un rapporto intenso, un rapporto fatto su un'amicizia davvero fraterna E tra l'altro in questi 25 anni Teramo ha visto tanti sindaci che si sono succeduti nella carica Mentre Memingen ha avuto sempre soltanto un sindaco, Ivo Olsinger E questo la dice lunga anche di come lui sia stato capace di mantenere questo rapporto saldo Veramente sentito e quindi oggi abbiamo firmato questo rinnovo del rapporto di convenzione Un altro anno saremo veramente in tanti ad andare a Memingen per la Wallenstein Che è questa importantissima festa che si svolge a Memingen alla fine di luglio Partiranno di Vessi Pullman da Teramo Insomma, un rapporto importante Un rapporto importante, oggi abbiamo siglato come dire Un nuovo momento che comunque è un momento di slancio per continuare questo gemellaggio Sindaco di Memingen, qual è l'importanza di questo gemellaggio con la città di Teramo? C'è il fatto che si sono scambiati oltre 6.000 visitatori Scambio Memingen-Teramo Su tutti i settori Politici, comunali, di sport, sociali e della gioventù Questo deve dire come è attivo e importante per noi quel gemellaggio Teramo si è sviluppato enormemente in questi 25 anni E sono sicuro che anche fra 25 anni sarà possibile festeggiare una nuova festa di 50 anni di gemellaggio e amicizia Anche se a quell'epoca lì Non ci sarò più Aumenteranno le visite a Teramo? Lì, prossimamente viene una delegazione di giovani del licencio scientifico Quattanoio a Memingen Inizia a Teramo 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 Inizia a Teramo